Nell'angolo Saavedra, che è in possesso, 25 secondi per l'attacco del Grosseto, Saavedra è filtrato col gol realizzato sull'assist di Saavedra, rete di Mattias Emanuel Silleror Scartaveto, 1-0 Silleror, raddoppio sul 77 che viene chiuso nell'angolo, recupera il Bassano la formazione di Bertolucci riparte, Sousa, Sousa, diagonale vincente e parità con la rete realizzata dal numero 9 Saavedra adesso prova a fare un po' di pulizia, termina a terra De Oro proprio davanti al compagno tutto regolare, Saavedra 15 secondi, prova a innescare De Oro, De Oro, De Oro va a terra poi la conclusione, il caduto, tutto regolare, 1 contro 2 e poi c'è la rete che va a realizzare il numero 55, Johan Galbas Pedrol 5 minuti e 5 secondi di gioco del secondo tempo il tentativo di Rima che non trova la porta c'è una stecca che si è persa in campo, era quella di Pozzato che la recupera porta avanti la sfera c'è stata una richiesta di time out da parte di Massimo Mariotti quindi, conclusione vincente di Tamorin De Gui con un tiro improvviso del giocatore del Bassano che va ad esultare sotto la porzione dei tifosi del Bassano di Saavedra che ora va lui stesso a cercare il tentativo di realizzazione la palla centralmente trattenuta da Verona che poi la allontana immediatamente e c'è il gol gol di Saavedra Pablo Saavedra porta a 2 il gol del Grosseto lo stesso per il Grosseto con una fase concitata di colpi e di scambi ora il Grosseto con Saavedra è scuccato che va a commettere però un fallo grave su Saavedra perde anche il bastone numero 58 che viene punito col cartellino blu a 1.55 dalla fine vediamo la scelta di Baraghan gol del Baraghan sulla respinta e c'è il bareggio del numero 88 tre pari nuovamente un tiro diretto fra Baraghan e Verona Baraghan che questa volta tira fuori e poi un tentativo di rimessa non va dentro però applausi per il giocatore con il numero 88 88